Il settore automotive in provincia di Teramo ha buone prospettive di crescita sia per l'occupazione che per il fatturato. Ad oggi sono più di 3.000 le persone che lavorano in aziende che stanno investendo nella transizione ecologica. Il pollo del carbonio e gli investimenti nell'elettrico stanno trenando il settore, ma la sfida maggiore è trovare personale specializzato come tecnici, meccatronici e laminatori di carbonio. E' questo il quadro tracciato da Marco Matteucci, presidente della sezione automotive di Confindustria Abruzzo, medio adriatico, al quotidiano Il Centro. E sulle potenzialità del comparto Teramano si è espresso anche il segretario Fimcisle, Marco Boccanera, che si è detto speranzoso per il futuro. Sì, ci sono buone prospettive, condivido in parte, ci fa piacere che anche la Confindustria, per conto di Marco Matteucci, che è uscito con un articolo, riporta quello che noi, nonostante tutto, diciamo da dieci anni. Dal 2017 noi che diciamo che la provincia di Teramo è un territorio appetibile, è un territorio che ha molte possibilità di espansione, soprattutto nel settore metalmeccanico. Se questo avverrà, avverrà anche per la volontà tra le parti sociali, i parti sociali datoriali, e la politica in particolare che deve metterci del suo, perché è vero che noi siamo, come dire, in un contesto dove abbiamo molto da offrire a chi verrà ad investire e in particolar modo a questi colossi che devono avvicinarsi, così si dice, di cui necessitano appunto di manovalanza o di professionalità che oggi non abbiamo. Quindi ben venga la formazione, ben venga la formazione per le nuove leve, ma bisogna tener conto anche di quelli che già sono in essere, che vanno riconvertiti e riformati, perché non possiamo dimenticare che ci sono anche i lavoratori attivi che hanno carenza di formazione e di professionalità. In Abruzzo il settore impiega circa 25 mila addetti e genera oltre 8 miliardi di euro di fatturato. Per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati, però, molte aziende stanno creando accademi interne per formare il personale. Per questo motivo è necessario l'intervento di fonti pubblici disponibili per sostenere questi investimenti e attrarre nuove imprese. La politica regionale deve giocare il suo ruolo, quello che stiamo giocando noi come parti sociali da tempo a Teramo, deve fare degli investimenti mirati, deve non sperperare il denaro che avrà a disposizione per creare questi nuovi posti di lavoro e questa occupazione. È un'occasione che non possiamo permetterci di perdere, è un'occasione che passa un treno una volta nella vita, quindi dobbiamo stare molto attenti perché il futuro dei metallomeccanici di Teramo dipende da tutti noi.